Il cinquantesimo anniversario dell'acquisizione dell'Abbazia di Novalesa da parte della provincia di Torino, oggi città metropolitana, è stato celebrato nella chiesa abbaziale alla presenza dell'Arcivescovo di Torino, Monsignor Roberto Repole, che ha presieduto il rito dei Vespri. Soprattutto nel mondo di oggi, in cui corriamo il rischio di sentirci un pochino delle pedine dentro un ingranaggio, o comunque di avere soltanto delle funzioni, dei ruoli, si possa cercare in un monastero il senso della vita e ritornare in qualche modo a sentire le domande profonde che abitano al cuore dell'uomo, attirati forse anche dalla bellezza che ci richiama il senso della vita, la bellezza del luogo, del luogo naturale, dell'edificio, della liturgia. Credo che molte donne e molti uomini possano passare qui oggi come nei secoli passati per ricercare appunto ciò per cui vale la pena di vivere. Fra le autorità che sono intervenute è l'ex presidente della provincia Luigi Sergio Ricca e l'ex assessore provinciale alla cultura Walter Giuliano, che seguì l'allestimento del Museo archeologico. I membri della consulta degli ex consiglieri provinciali e il vice sindaco della città metropolitana Jacopo Suppo. Io mi sono trovato in un ente che aveva una grande sensibilità verso questi aspetti e che aveva anche organizzato la struttura personale adeguata per affrontare questi temi e aveva le risorse, ci metteva le risorse e faceva delle scelte anche sull'utilizzo delle risorse finalizzate a salvaguardare e valorizzare realtà come quelle della Nuova Lesa. Non a caso la Nuova Lesa è stata salvata da un intervento della provincia di Torino nel 1972 nel quale oggi abbiamo festeggiato i 50 anni, proprio per questi aspetti, per questi valori che portava con sé, per questo ruolo istituzionale che tendeva a valorizzare anche le grandi eccellenze del territorio e che grazie a queste continuano ad essere testimoni di una storia, di un modo di pensare, di vivere del tempo. L'abbazia di Nuova Lesa, fondata nel 726 dal Patrizio Franco Abbone e dedicata ai Santi Pietro e Andrea, venne acquistata ormai faticente dalla provincia di Torino nel 1972. L'anno dopo fu affidata a una piccola comunità benedettina proveniente da San Giorgio di Venezia. Fra le mura secolari del monastero dei Santi Pietro e Andrea, monaci di diverse comunità assicurano non solo la custodia del monumento storico, ma anche una vita monastica in cui la comunione fra fratelli di diversa provenienza rappresenta una sfida. Fare memoria e sempre riflettere sul senso delle cose. Dopo 50 anni dalla ripresa della vita monastica benedettina in questo luogo, è chiaro che oggi per noi monaci, ma anche per tutte le persone che collaborano, che aiutano anche il mantenimento, direi, quasi materiale del complesso monumentale e di far ritornare questo luogo ancora di più ad essere un luogo dove le persone possano trovare un senso, nel senso della direzione, per trovare il senso della loro vita. E questo non necessariamente perché si identificano nella nostra vita cristiana, ma perché trovano in dei cristiani monaci dei testimoni della possibilità di sperare di trovare un senso. Perché il grande disagio di molte persone è la mancanza di senso. I monasteri che in altri tempi avevano altri ruoli, anche di civiltà, biblioteche, eccetera, oggi forse hanno questo particolare ruolo, aiutare le persone a poter sperare che un senso alla vita si può trovare.